Ci troviamo a Villa delle Rose, al campo sportivo Enrico Esposito di Lanciano. Ci sono, c'è un raduno di tecnici convocato dalla federazione, sei bravo a, ci sono istruttori della federazione e i tecnici delle varie scuole calcio invitate. Per la Virtus Castelfrendano c'è il mister Gabriele Di Felice, il nostro responsabile, il coordinatore tecnico della scuola calcio settore giovanile. Stanno assistendo a un'esibizione di ragazzi nella circostanza ragazzi della Virtus Lanciano. C'è il tecnico, si vede quel signore con la barba bianca, coordina i vari schemi di gioco e i tecnici decepiscono. Si riconoscono che ci sono tecnici dell'Ortona Calcio, della Valdisancro. Mister Gabriele si riconosce per la giubba smanicata rossa. Ogni tanto il responsabile della federazione ferma il gioco e richiama i ragazzi. Sei bravo a. I nostri mister assistono così dopo lo riproporranno nelle loro rispettive scuole calcio. Ecco proprio in questo momento il responsabile ha fermato il gioco, adesso sta riprendendo con la rimessa del forchiere. Sono suddivise questi due gruppi di ragazzi, c'è un gruppo con la classica maglia del Lanciano rosso-nera e gli altri con la casacca orange. I tecnici, i nostri mister osservano le varie fasi di gioco. Adesso interrompiamo, sono le 15.30. Mister Gabriele fra poco si deve portare a Castelfrentano per l'allenamento dei nostri allievi.